azione devo assolutamente avvisare gli altri il palazzo è sotto assedio no gira di guarda che modesta ben fissato no no fallo bene qua non ti sei direttore azione guarda questi vandali ma come si permettono ad imbrattare ma come si permettono ad imbrattare il palazzo dell'imperatore stop e guardi intorno via ecco azione casca morto tutto morto che ti riprendo no con tutte le braccia anche fai quello che sta a morire fai ancora versi di dolore via oh no un soldato morto capitano capitano te faccio la voce del capitano e devi dire c'è una guerriera che ti cerca dovresti parlare con lui si che c'è soldato c'è una guerriera che ti cerca mamma mia o che scarpinata vero male che ci ho fatta che cazzo ma chi è che siete a ginevra sono guerriera devo chiedere udienza per l'imperatore sono venuta da molto lontano io ho capito aspetta che cerco il capitano che parli con lui sta di ronda aspetta qui iscriviti al nostro canale